buongiorno da obiettivo news oggi 28 febbraio il san romano di codate e della giornata mondiale delle malattie rare la malattia rappresenta uno scenario sfavorevole in cui esiste sempre un certo grado di incertezza tuttavia soffrire di una patologia di cui la scienza sa poco e che il sistema sanitario non è preparato ad affrontare è un dramma da questa consapevolezza è nata la giornata mondiale delle malattie rare un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere il dialogo ogni anno l'ultimo giorno di febbraio torna alla campagna che riporta l'attenzione sull'isolamento delle persone colpite da malattie rare inoltre l'occasione per favorire il progresso nello studio e nella comprensione delle malattie atipiche che secondo i dati dell'organizzazione mondiale della sanità colpiscono 7 per cento della popolazione mondiale grazie a tutti grazie a tutti